a betone mon amour fabiana laro stinciamo foto video audio mixer di walter giusti amici e parenti tutti giusti walter vi augura una buona visione anche oggi si mangia fervono i preparativi in casa di fabiana cos'è questo pesce è morto che pesce è come si chiama da chi è e questo è il pesce che fai alle sposine ma gli piace a loro e quell'altro ricco se baccalà o stucca fisso ma le mani te le hai rilavate perché si le mani si sono pulite segua e ci ha le mani pulite via signore e signori con la che vino è questo villambrusco no il villameriano le artoni e poi lo metti e poi lo dai ai giusti signore e signore con queste novità giusti parte se ne va saluta fabio di fabio la fabianella dove l'ha un piatto questo salame fabio non ti va nemmeno l'ardaria non va più non freddo si muoie signore e signori con questo freddo e col salame chissà da dove l'ha comprato è un residuo di guerra dei 44 è stagionato una secchia è duro perché se senza denti si senza denti è buono ciuccialo ciuccialo vai che è buono il salame ciucciato te lo ciuccio io però massimo è capito ma non è mica tanto igienico fa guarda si è un trucolone ma nemmeno piatti c'è l'artigenia e basta guarda poi c'era questo minaccio piccoli e chianti signore e signori con queste novità giusti parte se ne va per davvero cosa fai ti mette dita in bocca anche ma non imparerai mai a un com'è questo non ne di le bugie non ne di le bugie è buono si mangiatelo vai basta a me mi ha rubato il salame dell'altro ciao ciao a tutti ho capito poi ci viene il bruciavulo eh no no si si anzi ma si chiamato anche le moro oggi anche belle c'hai va bene signore e signori con queste novità giusti parte se ne va e lui mangia tanto dell'altro salame mangia lo mangia non si poteva andare a letto in quella